Data la fusione Noi abbiamo bisogno di una figura che abbia le qualità di tutti e due Dovremmo sacrificare l'uno all'altro In modo c'è Ragazzi papà va via per una settimana, al suo posto arriva un altro Ok E direi che possiamo darci del tuo Allora, per te? Ciao, Luca non c'è Fantastico Luca Argentero, Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Serena Rossi Stai in campana piccolino Al posto tuo Questa sera alle 21 e 25 Su Rai 1